Dalla robotica all'MP3, dal motore elettrico alle città intelligenti, la copertina del numero di giugno di notizie è dedicata alle eccellenze tecnologiche e scientifiche che vedono il Piemonte autore di numerose scoperte e innovazioni. Ma il magazine della regione Piemonte celebra anche l'importante anniversario del club alpino italiano che nacque proprio a Torino 150 anni fa, con un ampio servizio sul passato e sul presente del CAI, nonché sulle glorie dell'alpinismo piemontese. I 150 anni di fondazione del club alpino italiano a Torino è stato un evento importantissimo. Sicuramente già abbiamo fatto molti eventi, ma seguiranno poi altri eventi nelle sezioni, perché con le 81 sezioni del Piemonte si sono attivate per continuare i festeggiamenti. Sarà poi il club per la chiusura del festeggiamento dei 150 anni, sarà poi ad ottobre quando verrà messa poi una targa al Valentino, dove è nato praticamente il club alpino italiano. Tutti i miei genitori e nonni erano guide alpine e maestri di sci, quindi per me è stato naturale sceglierla anche come professione, la montagna. Non so, esperienze in montagna le ho avute sia nella mia montagna che il Monte Rosa, le prime esperienze che poi ho portato avanti, sono andato in Himalaya, in Patagonia e quindi ogni esperienza vale tanto per me. La montagna la vivo così a 360 gradi, sia d'estate che d'inverno con l'arampicata su roccia, lo sci, il ghiaccio, la mia vita insomma.